Oggi voglio condividere con voi una lista di prodotti che non comprerei assolutamente non perché in generale siano cattivi i prodotti ma perché secondo me hanno fatto il loro tempo e tra controversie e problemi o semplicemente prodotti migliori che sono usciti successivamente effettivamente non credo che vadano più comprati ma alcuni di voi continuano a propormi build, configurazioni, impostazioni o cose del genere con questa tipologia di prodotti e quindi voglio essere sicuro di darvi il miglior consiglio possibile dicendovi quelli che secondo me sono prodotti che ormai hanno fatto il loro tempo vediamo di iniziare ma come al solito commenti, like e iscrizione sono super graditi e vi ringrazio e possiamo partire direttamente dal primo prodotto che è un diciamo un po' un'ovvietà Intel di tredicesima e quattordicesima generazione nonché dodicesima per parte del discorso ora sapete che Intel ultimamente non naviga in buone acque abbiamo parlato ampiamente delle controverse che si sono generate per via dei problemi relativi a BIOS e microcodice che hanno subito i loro processori con costanti crash e un numero elevato di processori nel mercato sia dal lato dei consumatori sia dal lato di chi assembla PC per lavoro ed effettivamente questa controversia si è evoluta in maniera costante e notevole oltre a questo ragazzi nel tempo si è anche scoperto che questi processori si possono ossidare e degradare per via appunto dei malfunzionamenti derivati dal microcodice di questi processori e oltre quindi dei crash c'è anche la possibilità che comprandoli usati effettivamente si acquisti un prodotto che se non è stato aggiornato in tempo ma in generale non lo può essere stato sia degradato e che pertanto sia inferiore alle aspettative di quello che realmente pensereste di comprare oltre a questo ovviamente c'è anche un discorso importantissimo da fare che è quello del fine vita di questi prodotti dodicesima, tredicesima e quattordicesima generazione di Intel ovviamente hanno fatto il loro tempo sono già uscite da circa un anno le ultime versioni con i 14.000 e c'è da dire che per quanto comunque il mercato non è che sia andato avanti tantissimo in termini prestazionali effettivamente sarebbe meglio comprare dei prodotti con una piattaforma che è ancora campi oppure aspettare la prossima se vogliamo rimanere sempre su Intel nella speranza che questi problemi non sussistano più effettivamente Intel Arrow Lake in arrivo come quindicesima generazione che potrebbe essere appunto la prima Intel Core Ultra e Intel Core sulla parte di desktop potrebbe rappresentare finalmente un divario rispetto alla situazione attuale e ridare terreno a Intel che in questo momento ne ha assolutamente bisogno in alternativa invece AM5 secondo me è attualmente la soluzione migliore per chiunque voglia comprare un prodotto che abbia più una piattaforma che possa essere aggiornata nel tempo ancora per almeno una generazione, due se consideriamo le versioni X3D in ogni caso io personalmente come recensore non mi sento di raccomandare Intel in questo momento in quelle specifiche versioni le prestazioni ci sono però finché non vedo una concreta e reale posizione di Intel che risolva al 100% il problema del microcodice con totale sicurezza test avanzati fatti da recensori di terze parti e cose del genere che dichiarino finalmente concluso questo capitolo orribile di Intel personalmente quei processori non vi consiglio niente da dire invece sulle controparti mobile come i più recenti Intel Core Ultra 200V che sembrano essere completamente illese da questo problema sempre rimanendo nei termini di un qualcosa che ha generato effettivamente Intel vi voglio parlare dei dissipatori c'è una categoria che io penso che ormai sia un pochettino sopravvalutata sto parlando dei dissipatori da 420 mm una categoria di peso veramente ingente che in realtà nasce in risposta proprio alle ultime tre generazioni di Intel che hanno raggiunto man mano crescendo dei consumi veramente assurdi con i top di gamma i9 13900K e 14900K capaci di superare anche i 300W in applicativi di tortura come per esempio la VX2 ma con testi comunque di utilizzo normale e questo è veramente assurdo i 420 mm nascono per ridurre questo problema ma a tutti gli effetti non è che siano un prodotto ideale sono più che altro un tappabuchi ad una cosa che dovrebbe essere moderata dall'azienda e che personalmente suggerisco di affrontare più che altro con dell'Undervolt sistematico fatto bene oppure anche semplicemente limitando quella che è la potenza che potrà andare a utilizzare il nostro processore semplicemente dalle impostazioni del BIOS imponendo che magari il Turbo Boost non superi 200-225 Watt che nella mia esperienza sono più o meno esattamente quello che serve al processore per funzionare verso il 100% delle sue capacità senza esagerare in risposta come appunto consumi e quindi conseguenti temperature i dissipatori da 420 mm sono un unicorno e io non penso siano utili anche perché la categoria direttamente inferiore 280 e 360 mm hanno ovviamente una compatibilità incredibile ed estesissima ma soprattutto proprio i 280 mm sono in grado di fornire delle prestazioni abbastanza simili a quelli dei 360 mm con un costo nettamente inferiore e una compatibilità ancora più estesa quindi di per sé molto interessante il mio consiglio, limitate i processori oppure passate ad AMD perché onestamente comprare un dissipatore da 420 mm è assurdo ed è assurdo che questo trend sia nato e continui a sussistere nell'ambito degli aio capisco se parliamo di custom loop o di macchine fatte ad hoc perché vogliamo raggiungere determinati obiettivi ma doverlo fare perché i nostri processori consumano in maniera inutile per recuperare un 3-4-5% di prestazioni in più con 100 Watt in più onestamente mi sembra ridicolo tutto qua terzo punto che farà ridere il mio video editor è il mondo dell'endeld io in questo momento non comprerei un endeld e voi mi direte ma lo di sempre la Steam Deck OLED come uno dei più grandi prodotti di sempre perché ora ci dici di non comprarle quando anche la Rogalai X che è in mano in realtà è anche meglio dal punto di vista prestazionale eh ragazzi perché effettivamente l'endeld in questo momento hanno un caso di ristagno abbastanza importante in termini appunto prestazionali dell'hardware con in realtà delle soluzioni che arriveranno interessanti sulla carta e che vorrei vedere prima di appunto fare un acquisto soprattutto perché siamo veramente all'alba della generazione successiva Strix Point e Allo Point che saranno probabilmente i prodotti maggiormente gettonati per quanto riguarda le prossime generazioni di endeld visto che Intel sembra essere un po' latitante su quest'ambito effettivamente potrebbero essere i candidati ideali e questi nuovi processori come abbiamo visto in un recente modern news effettivamente rappresentano anche la possibilità di incrementare i watt e creare dei tablet da gaming da utilizzare per esempio con un controller oppure semplicemente un'ottimizzazione degli attuali consumi che a cavallo con batterie impegnative grosse come appunto quella della Rogalai X effettivamente possono garantire delle esperienze di gioco prolungate e notevolmente migliori in questo momento se ci pensate l'hardware che montano queste console alla fine con la Z1 Extreme e la versione custom che invece monta la Steam Deck OLED non sono nuove e stanno già mostrando il fianco da un bel po' di tempo quindi di per sé comprarle non è proprio la soluzione migliore aspettere di vedere come va il mercato dal lato delle GPU di Intel per quanto riguarda l'ambito mobile con magari qualche nuovo inserimento e collaborazione che vedremo in futuro oppure le rede Z2 Extreme o come si vorrà chiamare per quanto riguarda AMD di per sé in questo momento specifico io soprattutto nell'ambito di Rogalai e Steam Deck a meno che non abbia un obiettivo specifico come per esempio giocare a titoli come GTA V, Minecraft o magari appunto cose leggere che so che girano tranquillamente non mi interessano i giochi del futuro sulle handheld o magari gioco soltanto indie un po' più vecchi cose così non punterei a un handheld insomma se la mia intenzione è di affrontare titoli un po' più moderni per indie, roba vecchia e cose così va bene andando avanti secondo me è un prodotto che non comprerei oggi al culmine ovviamente della mia esperienza in questo ambito sono le tastiere 60% ora metto le mani avanti questa è una mia opinione personale derivata dalla mia esperienza e ovviamente da tutto quello che faccio in una giornata secondo me le tastiere 60% sono eccessivamente piccole almeno per quello che è il mio utilizzo quotidiano sì è vero possiamo modificare queste tastiere affinché effettivamente abbiano la possibilità di utilizzare queste 60 tasti come anche una sovrastruttura o anche più sovrastrutture mediante tasti funzione e cose così è verissimo però io personalmente lo trovo scomodo le 60% più che altro non hanno un formato così piccolo e ristretto da renderle funzionali per ambienti piccoli dove secondo me formati come TKL 80% sono effettivamente il compromesso ideale specialmente se vi dimenticate di rimettere il tasto ESC prima dei video e rappresentano tutto quello che mi serve su una tastiera il tastiere non numerico per me è superfluo non lo utilizzo mai mi bastano i tasti che ci sono qua però effettivamente avere gli F in molti casi per alcune delle combinazioni o per come macro io le cose mi torna più utile più che altro per non dover utilizzare più mani per compiere singole azioni per come lavoro io in termini di ergonomia per come gioco cose così personalmente una tastiera bella di alluminio come questa 80% TKL o simili rappresenta per me l'ideale non mi ci trovo male non trovo nessun problema l'unica cosa è che ho sentito il dovere di avere la piccola rotellina qui nella parte superiore perché effettivamente mi torna spesso molto utile ma oltre a questo per me le tastiere 60% hanno fatto più che il loro tempo poi chiaro in base al contesto personale di ognuno se per esempio siamo di quei gamer pazzi che giocano col braccio e fanno i chilometri sul tavolo e vogliono avere il massimo spazio possibile sicuramente troveranno contesto oppure appunto chi gioca soltanto fps non avrà problemi chi ha una postazione di 30 cm probabilmente troverà utilizzo nel 60% spero se superate i 35 probabilmente già questa inizierà ad andare bene e avrete tutto più completo ideale anche per un contesto extra gaming questa è la mia opinione personale sempre parlando di postazione a proposito mi sento di dire che voglio fare un dissing a una mia precedente passione le sedie da gaming ora le sedie da gaming sono nella postazione di tantissimi di voi probabilmente siete seduti su una di quelle nel momento in cui guardate questo video ma come potete vedere io non lo sono sono su una sedia d'ufficio sono su una sedia ergonomica non perché la mia postazione sia un ufficio o una cosa più ergonomica ma semplicemente perché negli anni utilizzando tante sedie da gaming come anche Secret Lab o AK Racing o tutti quei brand che Sparco che trovate appunto su Amazon e su altri siti mi sono accorto che alla fine che cosa sono le sedie da gaming praticamente dei sedili da corsa da macchine perché da quello che nascono nascono dai sedili Sparco che potete appunto trovare su veicoli da competizione e di per sé non rappresentano il picco il culmine per quanto riguarda l'ergonomia hanno soltanto aggiunto qualche elemento come per esempio supporti lombari o appunto per le spalle mi sembra molto più utile appunto all'interno di un'auto che all'interno di un ufficio o di una postazione da gaming la mia alternativa in questo caso sono le sedie ergonomiche e le sedie da ufficio come dicevo prima principalmente per più motivi da una parte il costo con quello che costa per esempio una Secret Lab o comunque una sedia da gaming top di gamma ma anche scendendo effettivamente posso recuperare una sedia da ufficio una sedia ergonomica di buon valore su Amazon e che mi dia di più sia in termini posturali che in termini di qualità costruttiva generale con più selezione con più elementi banalmente anche semplicemente un poggiapiedi che esca dalla stessa ci sono varie cose oltre a questo le sedie ergonomiche e le sedie da ufficio hanno una scala di prezzo notevolmente migliore rispetto alle sedie da gaming che prima dei 150 euro onestamente per quanto magari alcuni di voi mi possano dire che si trovino benissimo per me hanno una qualità infima per quello che costano cioè il rapporto qualità prezzo è piuttosto basso poi sì potete dirmi per me va bene per me è incredibile per me è perfetta va benissimo è la vostra opinione personale ma avendo provato un tot di sedie avendo provato anche molte sedie ergonomiche ad ufficio avendo provato l'Herman Miller e tutto quanto mi trovo a dire che la categoria ufficio e ergonomica offra molto di più banalmente questa è una sedia da ufficio con schienale comodissimo e tutto quanto che ancora devo assemblare per la postazione che sto facendo al piano di sopra di quest'ufficio l'ho pagata 50 euro dal mio canale telegram degli errori di prezzo esce abbastanza spesso ogni volta che esce ve lo segnaliamo però di per sé di base costa 100 euro in errori di prezzo lo porti via 56 See Who è un brand che onestamente non ha niente da invidiare a entry mid level delle serie da gaming però effettivamente rappresenta un ottimo affare questo è un esempio condono le serie da gaming soltanto se come quel ragazzo che ha la postazione a tema warcraft volete un prodotto che sia al 100% abbinato al contesto dove lui appunto aveva preso quella postazione il nostro Ferdinando e l'aveva messa in un contesto completamente dedicato al gioco o comunque al mondo blizzard e aveva senso lì ha senso perfettamente una serie ufficio starebbe meglio ma siccome il 99.9% delle persone una cosa del genere non la fa le care vecchie sedie da ufficio ergonomiche sono comodissime e se volete spendere tranquilli ci sono gli herman miller che superano i 1000 euro se volete proprio il top del top se no potete scendere fino ai 50 come vi ho appena fatto vedere una meraviglia infine ragazzi una cosa che mi trovo a dire periodicamente più o meno allo scadere dei due anni di vita top di gamma evitiamole in che senso 4090 vi ho appena fatto un video in cui vi faccio vedere come fa girare egregiamente ancora moltissimi giochi affronta il path tracing e che secondo me in questo momento non è proprio necessaria una 5090 per sostituirla in quanto se la gioca ancora benissimo ancora prima di appunto modulare le impostazioni grafiche proprio spremendola al 100% e comunque il path tracing rappresenta un qualcosa di un po' insulso nel senso non è una cosa che vada utilizzata per forza insomma quindi le top di gamma sia dal lato di AMD che dal lato di Nvidia secondo me almeno le ultime due schede quindi 4080 e 4090 così come 7900 XT e XTX al momento non sono un buon acquisto più che altro perché mentre AMD è un pochettino scesa di prezzo le 4090 sono diventate più difficili da reperire e i costi sono aumentati le 4080 Super non offrono tanto di più delle 4080 e onestamente il loro prezzo per le prestazioni è abbastanza esagerato cioè le comprate soltanto se ne avete strettamente necessità o se pensate che la prossima generazione non rappresenti per voi qualcosa di utile anche perché comunque c'è da dire che i prezzi si devono stabilizzare il mercato italiano è diverso non sappiamo i prezzi finali insomma cose del genere però di per sé prendere una top di gamma in questo momento potrebbe essere un po' uno spreco di soldi con tutto che qui lo dico e qui lo nego secondo me la 5090 non sarà un salto prestazionale incredibile come quello che c'è stato per esempio tra la 3090 e la 5090 non credo ci sarà questo distacco del 70% in raster come la generazione precedente perché il nodo è meno permissivo e a meno che non sparino veramente alti i consumi la differenza secondo me sarà più bassa e quindi di per sé non sarà un grande salto al tempo stesso con il recente incremento delle 4090 potrebbe essere poco il divario staremo a vedere oppure la 5080 potrebbe dare delle prestazioni simili alla 4090 probabilmente sarà così con prestazioni leggermente migliori nell'ambito del ray tracing invece ragazzi ovviamente la fascia media rimane una zona di schede video che si può ancora comprare per esempio la 4070 Super 7800 XT secondo me sono ancora delle schede piuttosto buone per quanto costano ovviamente vanno trovate ad un prezzo giusto non compratele a più di 625 650 euro la 4070 Super e non più di 600 euro la 7800 XT meglio ancora un po' meno però di per sé da quella fascia in giù secondo me c'è margine così come la 7900 GR e cose così servirà del tempo perché si arrivi a intaccarle con la nuova generazione e ovviamente anche i loro prezzi scenderanno ci sarà un insieme di cose da vedere anche perché se la prossima generazione fa come questa e si arriva ad avere delle schede molto simili nella fascia media cosa che non penso succederà ma potrebbe succedere insomma gli acquisti saranno probabilmente orientati verso appunto la generazione precedente adesso fatemi invece sapere voi quali prodotti non comprereste in questo momento voi state su More Than Tech non ci vediamo al prossimo video salosa non ci vediamo